Mi renderò diga affinché mai più accada questo livello di vizio, questo livello di vizio che è impastato di politica e attività giudiziarietta. E' un attacco frontale alla squadra mobile di Pescara, quello contenuto nelle parole del presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, pronunciate durante i lavori del Consiglio regionale ieri all'Aquila. La polizia si è occupata delle indagini sul complesso in costruzione nei pressi dell'aeroporto di Pescara, denominato la City, e destinato ad accogliere gli uffici della regione Abruzzo, sul quale pende un'inchiesta della procura di Pescara, nata da un esposto del consigliere regionale dei Cinque Stelle, Domenico Pettinari. D'Alfonso ha anche parlato del lavoro della magistratura e in particolare di quello del pubblico ministero Annari Tamantini, titolare del fascicolo, esprimendo in questo caso massima fiducia ed apprezzamento. Ho una fiducia sterminata, una fiducia gigantesca nei confronti del lavoro che hanno fatto i magistrati delegati. Non ho la stessa fiducia nei confronti di una delle persone che ha maneggiato questo dossier e non vedo l'ora che mi si chiami, perché lo voglio dire nella sede propria. Questo è il punto per cui ho deciso oggi di parlare qui, dopo la lettura dell'articolo, e di non fermarmi qui. A far infuriare il presidente della regione è stata la pubblicazione di uno stralcio di intercettazione telefonica con l'assessore al bilancio Silvio Paolucci, nella quale D'Alfonso dice di voler bloccare l'operazione da 42 milioni di euro, che secondo le indagini della mobile di Pescara avrebbe un duplice interesse pubblico e privato, accorpare gli uffici della regione e salvare alcuni imprenditori amici. Uno stop che sarebbe nato dall'inchiesta in corso e dai pareri negativi dei dirigenti regionali rispetto alle risorse da impiegare nel progetto. In aula, però, D'Alfonso chiarisce che la City si farà, nonostante sia un progetto ereditato dal passato e viziato da alcuni problemi. All'Assemblea dico che questo intervento verrà portato a termine, quello denominato della City, con le correzioni che noi possiamo desumere anche dalla rilettura che ha fatto il giudice incaricato e lo speciale consulente, del quale non conosco ancora il merito. Le parole di D'Alfonso sulla polizia di Pescara sono state stigmatizzate dal Movimento 5 Stelle, che ha parlato di attacco senza precedenti. Inoltre, i parlamentari Grillini, Vacca Colletti e Del Grosso hanno annunciato una interrogazione al ministro dell'Interno, Angelino Alfano, per far luce su eventuali interferenze nelle indagini.